ciao a tutte allora oggi sono dalla macchina comunque per farvi vedere che questa giornata sono a fare un pochino di shopping nei vari discount perché vorrei provare a fare una cosa particolare quindi a vedere se ci sono prodotti low cost che comunque sia siano validi e che per tutti i giorni tipo il basso amolabbero, la crema mani, il correttore, la cipria, quelle cose che siano valide però quindi uno shopping un po' particolare, partiamo con Lidl e dopo andremo anche alle brospin quindi li facciamo proprio tutti e ci vediamo. Cosa ho preso da Lidl? Allora dunque questa crema alla calendula che prezzo alla mano 1,29 euro poi crema della ph bio crema mani all'aloe biologica ph 2,19 euro poi crema mani questa qui linea classica della CN al camomilla crema mani alla camomilla 0,99 andiamo avanti e quindi anche questa Q10 crema mani di età sempre 0,99 cipria compatta questa nel colore 2 medio la cipria 1,79 poi correttore eccolo qui correttore liquido per le occhiaie questo nella colorazione media guardavo il prezzo è 1,69 cosa mi manca? Ah eccola qua il balsamo labbra eccola qua che l'avevo già provato comunque per fare un test 0,89 e questi erano tutti gli acquisti da Lidl allora eccoci di ritorno wow luce ombre fantastiche allora ero da Eurospin e sono uscita a mani vuote non hanno niente cioè non hanno ma crema mani c'era solamente la classica fior di manoglia a 1,29 non hanno balsamo labbra non hanno altri tipi di crema mani non hanno make up non hanno niente infatti ecco perché io non vado mai da Eurospin normalmente però nel mentre mi sono fermata un attimo da Tigotà e quindi vi faccio vedere lo shopping che ho fatto lì però sono detersivi o cose comode ve le faccio vedere si vede che oggi proprio non ho fortuna perché anche da Tigotà comunque sia cercavo una matita una matita no un pettino per le sopracciglia e non c'era neanche dall'essence cercavo la terra dell'essence ma c'era solo il colore più scuro cioè zero proprio comunque sia ho preso varie cose tra cui questo della svelto che è nuovo con antibatteri con menta selvattica e limone un litro a 0,99 in promozione ho preso il colluttorio pasta del capitano perché comunque è valido e ne ho presi due confezioni con lo scontrino che lo posso dire in offerta a 1,25 euro poi dopo ho preso i spazzolini dell'acqua fresh 3 a 1,50 euro e ne ho prese due confezioni e poi dopo cos'altro ho preso? secondo me poche cose ah sì è solo che l'ho messo dentro un sacchettino perché se no perdo tutto il bicarbonato della Solvay a 0,99 quindi proprio erano cose poche cose poche cosine e oggi non ho avuto fortuna niente quando devo partire con lo shopping si vede che non ho avuto fortuna prossimo giro allora questo era tutto lo shopping che abbiamo fatto oggi sto morendo del caldo in macchina ma comunque la portiera è aperta anche se sono sotto il sole quindi yeah comunque sia fatemi sapere se avete provato qualcuno di questi prodotti e come vi siete trovate io come sempre spero di esservi stata utile e se vi è piaciuto il video mettete un like iscrivetevi al canale e mi raccomando anche di cliccare sulla campanella così verrete avvisate ogni volta che carico un nuovo video e alla prossima ciao ciao